Un saluto dal Tg della mobilità. Oggi e domani il Presidente della Repubblica francese sarà in visita a Roma. Oggi sono in programma due appuntamenti istituzionali, uno a Palazzo del Quirinale e uno a Palazzo Chigi. Per gli impegni in agenda dal pomeriggio di oggi scatteranno divieti di sosta e rimozioni dai veicoli nel tratto di Via del Corso compreso tra Piazza San Claudio e Largo del Tritone. A Largo Chigi, in Piazza Colonna, in Via Bergamaschi, Via della Colonna Antonina, Piazza San Claudio e Via del Tritone tra Piazza San Claudio e Largo del Tritone. Per la visita al Quirinale, in serata già dalle 14, saranno disposti divieti di sosta e rimozione in tutta Via 24 Maggio. Inoltre, sempre a partire dalle 14, i stessi provvedimenti saranno in essere nella zona di Piazza Farnese. Dalle 16 saranno deviate 13 linee di bus. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.